Divide politica e opinione pubblica la costruzione del polo socio-sanitario di Santa Maria a Vico. La costruzione, progettata nel 2006 e finanziata nel 2009 dal piano di sviluppo rurale per la somma di 485 mila euro, sta per sorgere al di sopra della comunità montana ed è destinata ad ospitare una serie di servizi che saranno gestiti dall'ASL di Saverno e dal piano sociale di zona S2. Ma dopo aver innalzato le fondamenta e lo scheletro, la struttura ha cominciato a raccogliere le critiche dei cittadini e delle associazioni della zona. Il perché è semplice. La struttura sorge su un'area a vincolo archeologico, considerata la presenza della chiesa paleocristiana di Santa Maria a Vico, che una volta terminati i lavori del polo socio-sanitario, verrebbe completamente nascosta. E su questo punto è nato lo scontro politico dall'amministrazione comunale di Giffoni Valle Piana, la comunità montana guidata da Gerardo Marotta e l'ex consigliere regionale del PD Ugo Carpinelli. Quest'ultimo prima ha chiesto la demolizione del mostro scrivendo direttamente al soprintendente per i beni paesaggistici Gennaro Miccio. Dopo aver affatto abbattere il ristorante davanti al convento San Francesco, affermato Carpinelli, non potevo stare zitto di fronte a questo ennesimo scempio. Secca la risposta dell'amministrazione comunale. Chi, ha detto il vice sindaco Antonio Giuliano, oggi sta seminando panico, è stato in amministrazione fino a ieri. Sul caso è intervenuto anche il consigliere comunale di opposizione, Giuseppe Marrandino, che ha chiesto se il comune doveva dare o meno dei pareri all'opera. Non spetta a noi, gli ha risposto Giuliano, ma al soggetto attuatore, ovvero la comunità montana. Intanto, dopo un incontro avuto in sovrintendenza prima di Natale, i lavori sono stati bloccati. Adesso, il direttore dei lavori avrà 30 giorni di tempo per presentare una variante al progetto. Due, le ipotesi allo studio. La prima sarebbe quella di spostare il fabbricato su un altro lato, oppure costruirla a terra, lasciando così libera la visuale della chiesa e inalterato lo stato dei luoghi. Grazie a tutti.